ah ecco perché sono così alti, ecco perché si svela il mistero adesso, Gabri lui che è così alto in che ruolo gioca? ah è matto in che ruolo gioca? pivot? non è solo alto fa anche i canestri è matto, è anche lungo vediamo anche lungo ci fidiamo allora no Gabriele davvero c'è il putiferio qua eh c'è davvero il putiferio, il divertimento allo stato puro poi ci sei te Gabriele che hai comunque, hai una marcia in più questa è solamente la prima parte, solamente bicchierino di musica, stiamo prendendo l'aperitivo poi ovviamente si va al tavolo, lì si comincia a cenare abbiamo veramente uno staff di cucina devo dire straordinario salutiamo la brigata che prima è uscita, non so se l'hai visto i pentoli eccetera eccetera perché noi ci divertiamo anche mentre cuciniamo però più tardi ci sarà anche lo spazio dance e quando facciamo le cose le facciamo davvero sul serio e poi apriremo, più tardi te la faccio visitare la nostra area youtube e ti farò visitare anche il nostro spazio roulette drink anche lì e poi la nostra face painting, la nostra Sandrina ricordiamo, si ricordiamo che lei dipinge abbiamo fatto una grossa festa a Ibiza e ci siamo portati questo face painting un po' così, un po' un po' fashion da questa festa che abbiamo fatto a Ibiza però devo dire che tutto quanto, tutto tutto sempre all'insegna del divertimento come sempre divertentissimo grandissimo e dove c'è DJ Gale c'è divertimento in assoluto allora Gabriele ti devo ricordare tra qualche minuto dobbiamo dare la linea sai, la pubblicità è fondamentale per noi e poi ritorneremo fino alle ore 22 in diretta quindi rimanete con noi tutto questo è convento di nonato il regno del divertimento siamo in Piacenza dei Battisti sulla via principale di Lonato Lelgarda in diretta televisiva in contemporanea su convento.it rimanete con noi stay with us